Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati a tutti cari telespettatori sono le 7.32 minuti e siamo in diretta come tutte le mattine dal lunedì alla sabato per leggere i giornali lo faremo tra un istante, adesso subito come di consueto il santo e poi le previsioni del tempo oggi la chiesa ricorda San Gabriele della Dolorata, il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 17.54 guardate la fotografia di Fano alle 7.30 di questa mattina, ancora una giornata di nuvole, qualche pioggia qua e là piove un po' a macchia di leopardo, la temperatura è di 8 gradi, l'umidità del 76%, oggi avremo cielo nuvoloso molto nuvoloso con qualche locale schiarita, possibili piovaschi sparsi, in particolare lungo la fascia costiera nella mattinata, temperature in lieve aumento, per la giornata di sabato 28 avremo cielo parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione nei valori minimi, domenica, domenica 1 marzo cielo nuvoloso con velature in transito durante le ore centrali della giornata, le temperature sono in aumento, le giornate di lunedì e martedì saranno invece caratterizzate da tempo stabile con un possibile peggioramento dalla giornata di mercoledì temperature in graduale aumento ma tornerà come dicono il freddo e anche la neve allora andiamo adesso a leggere i giornali, cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico la vicenda di un uomo scomparso, di un fanese scomparso in Albania, a Tirana ora si indaga e la pista è l'omicidio, la stampa albanese infatti dà la notizia di un'indagine per questa ipotesi di reato ma alla procura non risulta stiamo parlando di Ivan Angelo Pegan che partì nel giugno del 2013 per andare dalla sua fidanzata l'appello in tv della madre e della sorella a chi l'ha visto spunta adesso l'ipotesi dunque di omicidio per questo caso di Pegan il fanese scomparso a Tirana nel giugno del 2013 secondo quanto riportano un quotidiano albanese per l'uomo di 43 anni al momento del suo allontanamento da casa la procura estera avrebbe aperto un fascicolo per omicidio e di questa notizia ne parlano tutti e tre i quotidiani la sanità in apertura in alto sulla pagina di Fano la commissione valuta l'ospedale unico a Muraglia protesta l'ex sindaco Carnaroli che lamenta la mancanza di solidarietà tra Pesaro e Fano poi sotto altre notizie andiamo sull'altra pagina di Fano del Corriere Carnevale o Vitruvio la cultura si divide Berardi e Amati puntano sulle maschere Giombi e Franchini sulla Romanità Marcheggiani opzioni da coniugare questo è l'argomento sull'altra pagina del Corriere Adriatico ancora da Fano Urbino da Pergola Assemblea contro la Regione questa sera iniziativa di articolo 32 per spiegare il metodo di Montefeltro Salute poi ancora dalle liste dei centri per l'impiego cancellati i disoccupati inattivi la bonifica della provincia al via da lunedì saranno esclusi quanti negli ultimi sei mesi non hanno cercato un lavoro oppure un corso di formazione quindi attenzione se vi siete iscritti alle liste della job perché verrete cancellati quindi bisogna rimettersi in lista allora dalla pagina di Senigallia invece 3.000 alberi da abbattere lungo il fiume Misa la decisione per il pericolo di nuova esondazione partiti i lavori per raccogliere i detriti dalla spiaggia la pagina di Pesaro invece apre con i lavori nelle scuole per 200.000 euro tra questi c'è il progetto pilota dell'ITC di Fossombrone per risparmiare sul calore fino al 60% e ancora da Pesaro alle 18 nella Sala Rossa i pericoli dell'Islam dibattito con Magdi Allam Magdi Cristiano Allam che è politico e giornalista terrà un incontro alle 18 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro l'invito è stato fatto da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di Pesaro Rubino parlerà se non ricordo male anche in mattinata in una scuola di Fano andiamo adesso sul messaggero il messaggero apre con la politica la pagina di Pesaro Marcolini, Ceriscioli, Rush Finale, Primarie i candidati continuano la sfida a distanza l'ex sindaco chiuderà a Pesaro la sua campagna elettorale Solazzi Marche 20 e 20 si alleerà con chi condivide il progetto Nuovo Centrodestra e Udici insieme con Area Popolare scomparso si indaga per omicidio e poi nasce Casalolec aiuterà anziani soli e in difficoltà è il sogno dell'associazione fanese Papa Carol che diventa dunque realtà domani a Gallo ci sarà l'inaugurazione di questa struttura mentre le previsioni del meteorologo indicano un fine settimana con il sole entriamo nelle pagine interne andiamo subito sulla pagina di Fano del messaggero la foto a tutta pagina di Ivan Angelo Peganna scomparso in Albania si indaga per omicidio il caso del fanese sparito nel giugno del 2013 è tornato a chi l'ha visto l'onorevole Ricciatti aveva sollecitato in vano l'intervento del governo ora però le autorità di Tirana si muovono gli studenti della Padalino hanno scelto il loro sindaco e vice sindaco di questa scuola al contrario di quanto avviene nelle elezioni degli adulti il voto degli studenti fanesi non ha decretato un vincitore e uno sconfitto entrambi i candidati compongono il vertice della giunta studentesca e poi ancora divieto di accesso violato protestano i residenti a San Lazzaro il divieto di accesso in via dei Lecci nel quartiere San Lazzaro è uno tra i segnali meno rispettati in assoluto e poi cantieri navali al vaglio la procedura di mobilità ieri i 146 immensa per l'ultima volta ma era una assemblea poi sulla Rincicotti Orciani la persuasione per salvare l'azienda la ditta dopo l'appello della CISL Capodagli, presidente di Attispa promette, chiederò alle amministrazioni di utilizzare questa ditta andiamo adesso sul resto del Carlino cominciamo da un'inchiesta sulla sanità Capalbo agevolata da false attestazioni questo è il titolo i particolari dell'inchiesta dalla procura di Ancona sulla nomina per area vasta si può diventare dirigenti della sanità regionale in molti modi scrive Roberto Damiani ma nel caso di Maria Capalbo nominata direttore di area vasta dal 1 ottobre 2011 non è tutto chiaro l'avvocato Paolo Pauri indagare i componenti della commissione appare del tutto inspiegabile dove il dolo sotto risponde Aldo Ricci sconcertato ma di cosa parlano sono tutti dati verificabili Aldo Ricci che non è indagato tirato in ballo per la convalida dei titoli a rispondere di questo reato sono i tre componenti della commissione di valutazione Londrillo, Nobili e La Micela accusati di abuso di ufficio andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino in odi della politica scrive al giornale il sindaco di Urbino Maurizio Gambini Marche 2020 la vera novità anti-PD ma è Stefano Aguzzi il candidato giusto il sindaco di Urbino rilancia il modello vincente anche per la regione è l'uomo giusto dice a proposito di Stefano Aguzzi Maurizio Gambini è l'uomo giusto ha governato bene una città come Fano rimanendo anche quando Berlusconi voleva candidarlo in regione la pagina di Fano anche qui la pista è quella dell'omicidio i familiari chiedono che la procura pesarese intervenga un giornale albenese ipotizza una fine tragica per questo fanese di 43 anni poi la storia di un magistrato che ora è in pensione che si costituisce parte civile in una causa contro un chiosco un chiosco, un locale sul lungomare di Marotta il Tikal di Marotta è un po' troppo rumoroso l'ex presidente del Tribunale dei Minori di Perugia Sergio Matteini Chiari che è residente a Gubbio è a denunciare appunto questo locale di Marotta che si trova in via Cristoforo Colombo ancora il cimitero il cimitero dell'Ulivo chiuso alle auto ci sono lavori in corso da domenica dunque scatta il divieto dato che dal primo di marzo la società Adriacom Spa inizierà i lavori per la ristrutturazione della palazzina cimiteriale lavori che comprenderanno modifiche alla viabilità interna ed esterna al cimitero per ridurre al minimo le interferenze appunto a questi lavori e salvaguardare l'incolumità degli operatori cimiteriali e soprattutto dei visitatori per questo il sindaco appunto ha revocato i contrassegni le autorizzazioni per poter accedere al cimitero dell'Ulivo con le autovetture private poi c'è lo sciopero delle banche di credito sul resto del Carlino si parla di questa avvertenza la protesta è per lunedì nelle Marche l'incontro è a Fano contro la decisione di rescindere i contratti integrativi sotto invece strade pericolose ronco sambaccio rischio smuttamenti nel tratto che porta a Fenile si è staccato un grosso masso poi guardate questa bambina con il suo papà la bambina in questione è Rosa che su Facebook insieme al papà ha salutato tutte le sue amichette il padre della piccola ricoverata al Salesi ha scritto sul social network le sue condizioni sono ora in via di leggero miglioramento grazie per l'enorme affetto scrive non ci sono problemi di contagio faremo una festa quando guarirà passaggio a livello chiuso ai cittadini l'amministrazione va avanti oggi a Roma c'è un incontro si parla di questo passaggio a livello a Marotta Fano Grosseto cercare finanziamenti europei il sindaco di Sant'Angelo invado Bravi l'ha fatto dice l'Abruzzo per la terra Mogiglianova poi si parla dell'eterna compiuta dagli etruschi all'Ottocento storia di una via mai conclusa si spera nella nuova società bene è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi grazie per la vostra cortese attenzione buona giornata a tutti ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il nostro telegiornale arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.